e ciao a tutti eccoci in questo nuovo video di fifa mobile oggi siamo qua nell'ultimo video di prestagione di fifa mobile perchè mancano praticamente 3 giorni alla nuova stagione come vedete qua anche dagli eventi 3 giorni e andremo a aprire dei pacchetti due da 150.000 non so con quelli che andrò a fare però qualcosa farò intanto andiamo a prendere questo qua il piano coppa d'oro cioè corona d'oro andiamo un po', facciamo ottieni ritira il premio apriamo anche quest'altro e troviamo tesoro sommerso 4 ok, quindi anche un altro ne ho completato e adesso vorrei capire un'altra cosa per questo che devo fare? vabbè, ora non posso ancora riempire, vero? infatti andremo a fare un attimo quello nuovo che ho sbloccato questo qua che è tesoro sommerso 4 ah ok, è questo qua dei cross vanno fatti i cross e colpite le navi ok, siamo a due colpite vediamo se colpiamo anche questa no, che fail che fail che ho fatto non l'ho presa adesso sì eh, meno male meno male adesso l'ho presa facciamo continua abbiamo sempre questo qua caccia tesoro speriamo che mi dai una mappa no tanto i dobloni non si possono più vendere non si può vendere più niente perché hanno chiuso il mercato e poi abbiamo questo qua bello, quello della corona e andiamo nei piani vorrei capire un attimo una cosa se adesso io vado ad aggiungere questo che succede? niente ah, ok perché dice completato massimo tre volte cioè questi poi si possono ricompletare però non dice ripetibile ah, poi forse con altre cose si ricompleta boh, non so come si fa eh, magari a trovarne tre e tre però non si trovano e adesso mi diamo qua è aggiunto dove era? 18 20 da qualche parte boh, non so l'ho visto da qualche parte però non so dove vabbè, facciamo mercato vedete mercato non disponibile se andiamo a negozio invece qua possiamo comunque acquistare le cose infatti ce ne andiamo a aprire due di questi pacchetti qua vediamo un po' che troviamo allora divisa oro 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 divisa oro oro fernando torres troviamo poi oro oro divisa oro anche se ne siamo a due divisa e poi altri due giocatori oro beh non mi servono perché non riesco a completare più niente praticamente però comunque è buono trovare due divisa troviamo un fuoriclasse poi anche la divisa di pizzi le fuoriclasse non si possono più vendere poi una divisa un oro un oro un'altra divisa oro divisa oro 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 divisa oro e un'altra divisa bene questi sono finiti volevo vedere giusto un attimo questi qua quanto un giocatore oro solo vabbè allora non mi conviene aprirli andiamo comunque nei piani un attimo vedere se questo possiamo completarlo no non possiamo completare a miglioramenti andiamo ad aggiungere qualche giocatore siamo a 65 bene non ci sono più tante altre cose da fare qua 7 quindi oggi lo completo di nuovo va bene cioè non è rimasto niente praticamente da fare nel gioco adesso a parte completare questi due ma non credo che ce la farò mai a completare un forziere quindi questo era l'ultimo video fino a poi però comunque io giusto per andarmi a aprire altri due pacchetti andiamo qua con gli base e ci apriamo questi qua apriamo due di questi con le monete vabbè oro argento argento oro è oro due oro bene no tre oro mi sembra poi troviamo un argento un altro argento oro argento e argento ne apriamo tre con questi con i fifa points argento 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 oro e oro vediamo adesso che ci capita oro 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 e oro bene è strano trovare tutti i oro in un pacchetto del genere di solito non si trovano mai però io li ho trovati quindi buono direi argento oro argento oro argento ok andiamo nei piani di nuovo giusto vediamo se riesco giusto un attimo a completare questo no 78 quindi non ci sono riuscito qua andiamo aggiungere non lo completo va bene e quindi se vi è piaciuto questo nuovo e ultimo video della prestagione di fifa mobile iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti 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 Grazie a tutti